Ciao a tutti, oggi prepareremo i crescioni. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti per l'impasto sono strutto, farina di tipo doppio zero, bicarbonato, sale e acqua tiepida. Per farcire, spinaci lessati e conditi con olio, sale, pepe e scamorza, oppure speck e brie, oppure salsa di pomodoro condita con olio, sale, pepe, origano e scamorza. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua che deve essere tiepida, lo strutto, il bicarbonato, la farina ed il sale. ed azionare il bimbi in modalità spiga per cinque minuti. L'impasto è pronto, formare un panetto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare riposare in un luogo fresco per almeno 30 minuti. Dividere in panetti da 100 grammi ciascuno. Stendere con il mattarello formando una sfoglia sottile e farcire a piacere. chiudere sigillando bene i bordi ritagliare la pasta in eccesso e sigillare i bordi con i rebbi di una forchetta. Cuocere in una padella antiaderente su entrambi i lati fino a doratura. crescione grazie e alla prossima ricetta ricetta Grazie a tutti.